HerbredDragons Vabbè, Theory of Everything Oggi, dodicesimo nella serie Qua dall'interno o dall'esterno? Ma chi se ne frega dall'interno? Che ne so? Theory of Everything Ok, ora UFO È praticamente come Flappy Bird Un po' diverso Oh no, cavolo Wow, non pensavo di sbagliarla lì Vabbè Ci vediamo in quel punto Cos'è che dice Brota 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 No, lo so L'ho visto l'errore lontano da Miglia Vabbè Eh, ci vediamo di nuovo là Wow 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 Oh, basta Mi pareva dei colpi Su, seriamente Non è difficile Come vedete però Sono molto più dettagliati Eh, questi livelli Ok Ho rischiato anch'io lì Non so Ma sì, andiamo sotto Oh, fine Vedi, non era difficile Ok, perfetto Questo è stato The Theory of Everything Grazie per aver seguito Io sono stato di Smin74 Bastante semplice come con me Cioè È molto più semplice da imparare Di Per esempio Quell'altra funk Ehm Via te Divertitevi con sta roba È abbastanza carino Eh, potete cercare in giro Anche su YouTube Però vabbè Lasciate Cercate Arrivederci Alla prossima Grazie a tutti.